Spazi per l'Italia fa tappa a Napoli. La sede delle Unioni Industriali, situata nel cuore del centro storico e a pochi passi dal mare, ha ospitato lo scorso 17 giugno la presentazione dell'iniziativa che mette a disposizione del Paese parte del patrimonio immobiliare parzialmente inutilizzato di poste italiane, per creare la più grande rete di spazi di lavoro flessibile destinati a imprese, studi professionali, start-up e privati. L'iniziativa è collegata al progetto Polis di Poste Italiane, che ha l'obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. In Campania, in particolare partendo da Napoli, l'iniziativa si pone l'obiettivo di espandersi al resto del Paese, come già sta succedendo in varie altre regioni d'Italia, ma in particolare in Campania Poste Italiane ha investito per cominciare a erogare questo genere di servizio che per molte comunità, molti piccoli territori, molti piccoli comuni, soprattutto è completamente nuovo, per dare questo servizio innovativo alla regione Campania. L'iniziativa immobiliare di Poste Italiane è stata presentata da Pierpaolo Cito, responsabile ai rapporti con le associazioni di categoria dei consumatori del gruppo Poste Italiane, e Davide Ambrogi, responsabile Spazi per l'Italia del gruppo Poste Italiane. A fare gli onori di casa è il Presidente Unione Industriale di Napoli, Costanzo Iannotti-Pecci. Un progetto interessante perché i luoghi nei quali sarà realizzato sono luoghi normalmente comodi e molto baricentrici rispetto alle principali attività che si svolgono in un determinato territorio. C'è un altro aspetto che lo rende interessante, è anche un modo intelligente per recuperare tutti quegli spazi, quelle strutture bellissime che peraltro caratterizzano il patrimonio di Poste Italiane. E da ultimo risponde ad un'esigenza sempre più avvertita da parte delle nostre aziende, aziende che fanno riferimento a norma, delle aziende in generale, che è quello di poter disporre di spazi di lavoro in maniera flessibile. Poter disporre di spazi attrezzati, comodi, funzionali, tecnologicamente avanzati diventa un must del quale occorre tenere presente e soprattutto che può tornare particolarmente utile per le strategie delle aziende anche sul versante dei rapporti territoriali. Cinque gli spazi già pronti realizzati da Poste Italiane in Campania, Marcianise, Santa Maria Capoavetere, Telese Terme, Bellizzi e Caivano, dove l'iniziativa assume un particolare valore sociale. A Caivano c'è grande attenzione sociale, poste appunto di riferimento per tutta la comunità, sia in termini di servizi e di prodotti che regolarmente vengono erogati nei nostri strutturi postali e dare questo servizio in più ai liberi professionisti, alle associazioni, è sicuramente un'ulteriore attenzione che viene ad integrarsi a quello che regolarmente poste fa su questo territorio. È prevista invece tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 l'inaugurazione degli spazi di lavoro flessibile all'interno dello storico palazzo di Poste Italiane di Piazza Matteotti nel cuore di Napoli. Diamo un posto prestigioso al centro di Napoli, un posto facilmente raggiungibile sia dai mezzi di comunicazione delle metropolitane, le due linee principali della città, sia raggiungibile dalla stazione centrale con taxi o autobus, quindi sicuramente un posto molto appetibile per la centralità in ambito cittadino.